Sì, sì, io sto bene, nel senso, sto bene, magari all'inizio ho pagato il fatto di aver giocato anche in un Napoli che magari non era quello di adesso, dopo c'è stato questo appunto cambio modulo che ha agevolato un po' tutto, anche io mi trovo bene in questo modulo, quindi io ho sempre continuato a lavorare con la massima serenità e con la voglia di fare bene con questa maglia, quindi il mister è una persona che lavora molto, una persona preparata molto anche tatticamente, è riuscito ad avere subito un buon rapporto con i giocatori qua che magari è una realtà diversa da quella che poteva essere l'anno scorso a Empoli, quindi ha avuto un buon impatto, sono contento per quello che fa e soprattutto che stiamo facendo noi. Grazie mille. Grazie.